Ben trovati in redazione. Tensioni e contestazioni hanno caratterizzato il gay pride di Belgrado con il corteo scortato da un imponente schieramento di poliziotti in assetto antisommossa che hanno cercato di tenere a distanza i gruppi di ultranazionalisti omofobi e integralisti religiosi. Almeno 5 i contromanifestanti fermati. Per saperne di più vi invito a visitare il sito www.lanotteonline.it, vi ricordo la mail di redazione redazione.lanotte.com. Per il momento è tutto, vi auguro buon proseguimento e iscrivetevi al canale YouTube La Notte Online. Grazie!